Le ricchezze del territorio agrigentino, la mancata valorizzazione e le politiche di settore. L'intervista all'eurodeputato siciliano dei 5 Stelle, Ignazio Corrao. Il territorio agrigentino è storicamente ricco di tante preziosità artistiche, paesaggistiche, culturali, un fermento di iniziative davvero vivace, purtroppo spesso non assecondato dalla classe politica e non valorizzato adeguatamente. L'euro parlamentare siciliano del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao. Bene, qui nel territorio agrigentino io ho avuto modo di vedere in questi giorni, ho avuto modo di visitare la Farm Cultural Park di Favara, che è un esempio straordinario di come dei cittadini privati, il caso del notaio Bartoli di Favara, possano far rivivere, possono far rifiorire un qualcosa che era completamente abbandonato e che era esempio dell'abbandono da parte di una terra che è piena di ricchezze. L'esempio del notaio di Favara, che è un qualcosa che incuriosisce, di cui i cittadini si interessano, che richiama anche turismo in una zona in cui non ce ne sarebbe altrimenti stato, è un esempio per tutta la Sicilia, è un esempio virtuoso che può essere ripercorso in tante altre città. Da questo tipo di situazioni, da questo tipo di esempio, si può ripartire per fare rifiorire i centri storici bellissimi delle città siciliane. Io da europarlamentare, da persona che comunque vive spesso tra Bruxelles e Strasburgo, ho avuto modo di incontrare e di sentire dei feedback molto positive sulle città amministrate dal Movimento 5 Stelle, come ad esempio Ragusa. Ho avuto delle persone del nord che mi dicono che sono stato a Ragusa, sembra una città del nord Italia amministrata bene. Questo mi riempie d'orgoglio perché vuol dire che dove riusciamo ad amministrare con le mani libere, dove riusciamo a portare avanti dei progetti semplici, spesso e volentieri, ma fatti da cittadini senza interessi privati o di speculazioni da parte di multinazionali, si possono realizzare, si può realizzare lavoro, si può realizzare occupazione, ma si può realizzare anche quel movimento culturale di cui agrigento tutta la provincia, oltre che la città, è piena. Io conosco artisti agrigentini di ogni tipo, per farli ritornare su questo territorio, farli rimanere e fargli sviluppare queste grandi vocazioni che hanno. Questo è l'investimento più grande che una classe politica seria e lungimirante può fare.